ciao a tutti ragazzi qui è zio degli animali che parla in questo video andremo a vedere come si accudisce un gecko leopardino so che è un video che ho già fatto solo che essendo abbastanza vecchio di circa un anno diciamo che ho fornito delle informazioni non precisissime o comunque delle cose non chiare al 100% quindi ho deciso di rifare il video aggiornandolo e mostrando al 100% tutto quello che c'è da sapere sui nostri gecko leopardini intanto andiamoli a vedere più da vicino questa è una femmina di gecko leopardino come potete vedere la caratteristica principale è questa coda molto molto cicciona dove andrà a conservare tutte le proprietà nutritivi in eccesso ovviamente bisognerà stare attenti a non eccedere perché se inizia ad avere una coda troppo grossa sarà un animale grasso si potrà incorrere a qualche malattia sia di come può essere ad esempio il diabete oppure comunque problemi ad esempio i reni o al fegato come vedete un animale molto docile non ha problemi a farsi maneggiare ovviamente questo dipende da esemplare ad esemplare perché alcuni possono essere un po più spaventati o comunque non essere così tranquilli questo purtroppo è soggettivo ma è raro che un gecko leopardino attacchi una delle caratteristiche più belle di questi jacky sono appunto i colori perché con lo stesso animale quindi parlando di gecko leopardino esistono veramente tantissimi colori questa è sempre un'altra femmina come potete vedere è diversa rispetto a quell'altra ha una coda più magra ed è un po più piccolina diciamo così quell'altra è una femmina un po più vecchia è un po più massiccia questa è magra perché ha finito da poco il periodo riproduttivo quindi questa jack ha fatto delle uova e appunto quando un gecko comunque un qualsiasi animale si riproduce ha un grosso consumo di sostanze o comunque di nutrienti e di conseguenza ci sarà un dimagrimento può essere più o meno consistente in base all'animale quante uova fa e questi piccoli parametri infatti adesso comunque lei non è più riproduttiva ha finito le ultime due uova se non mi sbaglio a metà settembre e adesso è ferma quindi ok è magra ma adesso pian piano magari non adesso perché con il freddo tenderà ad alimentarsi meno quindi non sarà facile far prendere peso però con l'inizio dell'anno prossimo magari non la faccio riprodurre in modo da riuscire a riabilitarla completamente questo qui invece è uno dei miei maschi come potete vedere è una via di mezzo tra le due femmine che vi ho fatto vedere non è né ciccione né magro come quella arancione quindi lui diciamo che è in perfetta salute senza problemi come potete vedere ha dei colori completamente diversi dagli altri jacky ed è proprio questo uno degli aspetti migliori di questi animali che può soddisfare tutti i gusti perché li abbiamo bianchi gialli arancioni rossi ce ne sono alcuni che tendono al viola alcuni che tendono al nero ci sono veramente un'infinità di combinazioni sia di colori che di pattern come vedete ad esempio il primo che ho fatto vedere aveva le palline questo qua invece è a strisce ci sono veramente un'infinità di combinazioni per andare diciamo ad accontentare tutti quanti magari ad esempio il mio preferito è il morph blizzard che tende a essere un rosa cenere quindi diciamo un colore questo qua tende di più al viola è proprio un rosa un rosa pallido tendente al grigio che può ricordare quasi un pullo di papagallo per intenderci infatti a più di qualcuno non piace invece ad esempio è il mio preferito il dimorfismo sessuale con un gecko leopardino lo vediamo qua sopra alla cloaca come vedete qua ci sono un c'è tipo una piccola freccetta che sono i pori preanali e presenta due rigonfiamenti non so se si vedano bene in campo vedete a due rigonfiamenti questi qui sono gli emipeni questo è un maschio ovviamente la femmina invece avrà queste palline qui però bianche o comunque molto chiare non avrà i rigonfiamenti degli emipeni quindi sarà tutta liscia questo qui come potete vedere è un è un baby di gecko leopardino dovrebbe avere circa due mesi e mezzo più o meno infatti vedete è molto più piccolo e questo gioco qua non si potrà sessare perché essendo troppo piccolo non ha ancora sviluppato la maturità sessuale e se noi andiamo a vedere a livello della cloaca non troveremo niente quindi non si può sessare ve lo sto facendo vedere questo gecko perché è un morph molto particolare nello specifico si tratta di un morph che si chiama enigma questo morph è molto pericoloso io questo l'ho acquistato sapendo probabilmente che era enigma ma proprio diciamo per vederlo con i miei occhi quale poteva essere la problematica il gene enigma è famoso perché diciamo che gecko che ha questo gene presenta di un pattern molto particolare infatti se vedete è molto strano questo gioco può sembrare quasi una mucca il gene enigma diciamo che fa uscire di pattern completamente casuali e di solito tendono a fare di gecchi molto belli infatti è molto particolare come gecko questo qua ha però un grosso problema tende a far diciamo così impazzire i gecchi nel senso che tendono a perdere la vista quindi iniziano a vedere meno di conseguenza hanno qualche problema ad alimentarsi tutto quanto e il problema più grosso è che possono tipo non dico avere tipo degli attacchi epilettici ma rischiano man mano che crescono se hanno delle situazioni di stress in base a quanto il gene è forte avere dei veri propri problemi ho visto di gecchi che facevano direttamente le capriole cioè il gecko invece di camminare faceva delle capriole su se stesso perché non riusciva assolutamente a coordinare il moto diciamo così e di conseguenza sono gecchi molto problematici perché possono avere difficoltà a fare qualsiasi cosa come mangiare bere cacciare qualsiasi cosa e in base a quanto è forte il gene può anche portare alla morte questo ad esempio attualmente non presenta gravi problematiche infatti vedete tranquillo va in giro tiene solo un attimino gli occhi chiusi ma può essere anche per colpa del flash però non mi sta dando alcun tipo di problema ma il gene si manifesta quando tendono a crescere quindi mi raccomando ragazzi informatevi sempre sul morfe dei vostri gecchi e evitate questo morfe perché può essere veramente problematico anche perché se questo gecko si riproduce darà dei figli enigma o probabilmente enigma e quindi si questo gene rischia di diffondersi come una piaga e diventare sempre più più frequente portando problemi perché magari una persona un neofita che si acquista un gecko magari riceve un enigma gli muore per qualsiasi motivo perché comunque è difficile starci dietro e magari si arrende perde subito la passione che magari avendo un gecko normale sarebbe cresciuta e l'avrebbe fatto diventare un appassionato di terraristica quindi sempre molta attenzione a che cosa comprate mi raccomando come vi avevo fatto vedere già in un altro video questi sono i terrari dei miei leopardini come vedete sono impostati naturale quindi non c'è un ambiente assettico quindi non c'è scotex non c'è non ci sono tanni di plastica e tutto diciamo naturalistico quindi che tende a simulare più o meno l'ambiente in cui un animale vive in natura come potete vedere ci sono diverse tane che anche il teschio può fungere da tana perché ci possono entrare in questo caso qui ho una coppia una femmina l'ho separata perché è andata un attimo in difficoltà e quindi l'ho separata e loro vivono 365 giorni all'anno dentro il terrario vivono già da alcun da diverso tempo insieme sono compatibili io non ho mai avuto problemi non mi hanno mai dato problemi con la riproduzione però io sconsiglio sempre di avere una coppia o singoli o in trio o anche in di più ma non in coppia perché se hai un maschio una femmina nella stagione riproduttiva c'è il rischio che il maschio vada costantemente a disturbare la femmina causando gli stress come potete vedere io ho anche delle piante che solitamente si tendono a non utilizzarle perché aumentano l'umidità e leopardino sta bene in un ambiente che va dal 40 al 50 per cento di umidità però le ho lasciate nei vasi quindi se io devo un attimo annaffiare la pianta andrò semplicemente a bagnare un po dentro al vaso quindi senza creare troppa umidità e non c'è problema come potete vedere ho una semplice illuminazione a led io ho due stecche a led su ogni terrario e qui c'è un grosso dibattito sul cosa sia meglio come allora c'è chi utilizza il tappetino riscaldante quindi avrà un tappetino su un lato del terrario che manterrà 30 gradi circa termostatato e va con il led o comunque con una luce molto semplice come lo sto usando io c'è invece chi usa lo spot riscaldante invece del tappetino e questo diciamo che è comunque interessante come ipotesi molti dicono che i leopardini fanno basking quindi vanno sotto la luce a riscaldarsi anche se sono notturni io personalmente tempo faccio ho provato e i miei jackie non li ho mai visti sotto la luce quindi io l'ho rimossa però tanta gente ha messo anche foto di leopardini che si fanno i bagni di sole quindi qua sarà una vostra scelta o eventualmente una scelta del vostro animale la lampada uvb non è obbligatoria ma qui c'è un bivio se viene utilizzata una lampada uvb si potranno ridurre abbastanza abbastanza le integrazioni di calcio con la vitamina d calcio e calcio con la vitamina d e molti dicono che utilizzando l'uvb il colore dei jackie diventi molto più brillante quindi diciamo che con la luce è come quando noi ci abbronziamo il jack tende ad essere un po più brillante se invece optate per non usare una lampada uvb come nel mio caso bisognerà fornire sempre calcio o mettete il calcio direttamente dove mettete le tarme quindi qui c'è il calcio e loro mangiando le tarme oppure vogliono solo il calcio riescono ad integrare e almeno una volta alla settimana bisognerà usare il calcio con d3 io vi consiglio di usare il calcio con d3 su delle prede mobili quindi se voi avete la ciotola con le tarme sempre disponibile mettete dei grilli o delle blatte con il calcio con d3 questo perché col movimento il jack è molto più attirato nella nel cacciare e diciamo che anche se non ha fame si nutre in questo modo siamo sicuri che andrà ad integrare il calcio come substrato io sto usando la fibra di cocco e possiamo dire una specie di terriccio però non rilascia assolutamente alcun tipo di residuo come vedete non mi lascia come terriccio che si attacca un po tipo la fanghiglia per intenderci ed è a parer mio il substrato migliore perché tende a essere molto asciutto di suo è in grado comunque di mantenere molto bene l'umidità quindi se avete una tana una tana umida con dentro la fibra di cocco andando a fare qualche nebulizzata la tana sarà sempre molto umida e in più è 100 per cento naturale cosa succede leopardino non è un cacciatore molto forte cioè che preda cattivo diciamo che tende a essere un po tonto infatti non sarà raro vedere leopardino che magari si guarda il grillo poi prova a prenderlo lo manca completamente magari sbattere il muso anche addosso a qualcosa questa sarà la normalità diciamo che un colpo su tre va con successo gli altri sono a vuoto cosa succede se lui per caso fa un boccone di fibra di cocco non succede niente perché la riesce a digerire essendo 100 per cento naturale e così evitiamo tutti i problemi che possono essere occlusione intestinale o simili come alimentazione già ve l'ho spiegato il gecko leopardino mangia praticamente tutto io personalmente uso tarme della farina sempre disponibili in una ciotola con il calcio e poi una o due volte a settimana libero delle prede come possono essere grilli lateralis o locuste taglia media non eccessivamente grandi perché magari il leopardino riesce anche a mangiarle ma è meglio non rischiare sia con l'apertura della bocca che non sia mai che si sloghi qualcosa o anche perché una cavalletta abbastanza grossa è in grado di ferire perché ha le zampe saltatorie che sono tipo un po' accuminate c'è il rischio che gli dia una un calcio e se magari lo prendi in un occhio può recare danni quindi per andare su tranquillo prendiamo delle prede semplici quindi tarme grilli e blatte e siamo a posto come alimentazione avrà bisogno di una ciotolina d'acqua sempre disponibile fresca quindi cambiarla ogni due tre giorni e sarà conveniente pulire sempre tutte le cacche o comunque i residui che possiamo trovare come può essere della muta che non viene mangiata delle degli insetti morti sarà conviene pulirli tutti i giorni che ci mettiamo qui dieci secondi aprire il terrario prendere fuori lo sporco e a sistemare piuttosto che magari lasciare una settimana intera abbandonati a loro stessi e dopo mettersi lì una due ore a cercare uno a uno tutto lo sporco che c'è in giro e sistemare questo è il metodo più veloce che si può usare diciamo così come vi ho detto prima bisognerà avere del calcio puro questo si può comprare o di marca in negozio di animali o magari si può provare sentire se in farmacia lo trattano perché in farmacia di solito costa meno non tanto meno però insomma si può risparmiare qualcosa un'altra cosa importante sarà il calcio con d3 il calcio con d3 come già ho detto in un altro video è importante perché la vitamina d3 è la vitamina che aiuta l'assimilazione del calcio quindi se un animale senza vitamina anche se mangia tanto calcio non lo riesce ad assimilare e di conseguenza ci saranno problemi come la mom integratori io personalmente non li uso e tendo a sconsigliarli proprio perché non sono essenziali e anzi c'è il rischio che portino problemi perché in eccesso vitamine o comunque integratori possono portare problemi come la carenza anche gli eccessi portano problemi di conseguenza non sapendo nello specifico la percentuale di tutti gli ingredienti è meglio evitare che tanto non serve se verranno alimentati bene gli insetti da pasto il geaco avrà una dieta completamente bilanciata e sarà sano senza tanti problemi io personalmente vi sconsiglio di allevare dei gruppi perché avere maschio e femmina porta a possibile stress più di una femmina bene o male non ha senso cioè perché costringere due animali a vivere insieme senza un motivo comunque per un nostro capriccio in quel caso ce ne prendiamo uno stiamo dietro al nostro geco e siamo tranquilli questo perché può essere che se vi comprate una coppia cosa succede volete riprodurli ok però dovete essere consci del fatto che la riproduzione può portare parecchi problemi di conseguenza come ad esempio lo stress che vi dicevo prima ci può essere il prolasso degli emipeni per il maschio ci possono essere ci può essere la distocia per la femmina la femmina durante la gravidanza dimagrisce veramente molto col rischio che se va troppo in anoressia che diventi un problema non si alimenti più perché è stressata e lì si parla di veterinario si parla di visite pomate integratori cose e parliamo di parecchi soldi per cosa per avere 5 6 8 uova che bisognerà prendersene cura perché bisognerà incubarle starci attenti far nascere i baby leopardini alimentare i baby leopardini che vi dico non è semplice perché sono molto rognosi e non è detto che mangino quindi magari vi muoiono anche questi gecchi qua dovrete avere tutto lo spazio necessario per tenere i vostri gecchi adulti avere lo spazio per un incubatrice avere lo spazio per tutti i baby che nascono i baby non possono stare tutti ammassati insieme io di solito ritengo insieme nella coppia che si è schiusa ma non ha senso fare cose troppo in grande senza essere pronti e preparati quindi vi sconsiglio di partire con più di un esemplare prendetene uno imparate a conoscerlo capite come funziona e dopo potrete pensare di procedere eventualmente in futuro i parametri di stabilazione come ho detto prima sono 50 per cento di umidità circa anche se c'è un 40 non è un problema dato che un animale semi deserticolo avrà bisogno di circa 30 gradi nella zona calda che sarà un terzo del terrario e questo si riscalderà o con una lampada o con un tappetino il resto del terrario può rimanere a temperatura ambiente la temperatura dovrà essere tenuta sotto controllo tramite un termostato che andrà a spegnere la fonte di riscaldamento per non andare troppo su con le temperature mi raccomando non termostatate le lampade perché una lampada termostatata fa accendi spegni accendi spegni e può dar fastidio all'animale e fulminare la lampadina mi sembra di aver detto tutte le cose più importanti come sempre se avete bisogno lasciatemi un commento scrivetemi su facebook o su instagram mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video